Secondo impegno ufficiale della stagione per il Teramo che sarà di scena domani a Rieti alle ore 17.30 allo stadio centro d'Italia per affrontare per l'appunto il Rieti nella seconda giornata del girone H di Coppa Italia. Il Teramo che cerca conferme dopo il primo match ufficiale della stagione contro la Fermana si va verso la conferma del 4-3-3 nonostante l'esperimento del 4-2-4, 4-2-3-1 visto ad inizio ripresa ad Avezzano con Piccioni e Fratangelo in ballottaggio lì davanti per una maglia. Mi aspetto tanto perché poi dopo questa partita non abbiamo più nessuna partita ufficiale fino al 15 o il 16 settembre quindi pretendo il massimo come sempre da ogni singolo calciatore, pretendo che tutti diano tutto quello che hanno sempre in continuazione chi giochi chi non giochi e voglio vedere il lavoro che stiamo svolgendo in allenamento e lo voglio vedere in partita, lo pretendo. Questa mattina poteva essere una conferenza da parte del mister Giovanni Zichella per commentare la chiusura del calcio mercato, trattative che invece sono state posticipate a venerdì prossimo dalla FIGC che ha accolto la richiesta della Lega Pro e dell'Asso Calciatori ma il tecnico del Teramo ha comunque commentato alcuni degli obiettivi che sta provando a portare in bianco rosso il direttore sportivo Sandro Federico. Ha parlato di D'Urso, ha parlato di Eselasi e ha parlato anche del rientro di Gomis considerato dal mister Biancorosso come un top player. È un altro calciatore che io ho avuto nel settore giovanile, è un calciatore che ho avuto purtroppo solo un anno nei giovanissimi nazionali, non mi fate dire l'anno perché non è bello, però tanti anni fa. L'anno dopo lui già con gli allievi regionali non ha fatto gli allievi regionali, è andato in ritiro per la prima squadra, quindi secondo me è un talento ancora inespresso Gomis, ha delle doti atletiche fuori dalla media. Io ho anche allenato suo fratello per due anni, che anche lui è bravo e adesso è anche in Serie A tra parentesi, però l'Is è qualcosa di eccezionale. Io spero di averlo il più presto possibile perché per noi potrebbe essere un top player. Personalmente preferivo che finiva oggi a mezzogiorno nel mercato, così ieri quello che stavamo cercando potevamo avere risposta o sì o no. Abbiamo fatto 33 presenze in Serie B, però devo essere sincero, qualche dubbio su Durso ce l'ho che possa venire. Menzione speciale da parte del tecnico per il terzino Fiordaliso, la cui pista si è riaperta nelle scorse ore, pare che infatti il giocatore del Torino sia intenzionato a raggiungere il Teramo. Il Teramo si aspetta per l'appunto una risposta a breve dal calciatore e dal Torino che deve dare comunque il beneplacido per il trasferimento. Sarebbe il suo ingresso un completamento della difesa con un innesto che per l'appunto mancava lì a dare un'alternativa al giovane Mastrilli. Siamo sempre in trattativa con Fiordaliso e penso che entro stasera sappiamo qualcosa di Fiordaliso. C'è l'aspetto tecnico, l'aspetto economico, c'è l'aspetto logistico, perché poi uno che abita a Pordenone per venire a Teramo o viceversa è difficile. Se uno abita a Pescara come ventola è un po' più semplice venire a Teramo.